La situazione meteorologica per il fine settimana sulla regione vedrà un drastico cambio di circolazione propiziato dall'arrivo di un fronte freddo marcato nella notte tra sabato e domenica. La giornata di sabato vedrà instabilità atmosferica, quindi cielo in genere nuvoloso su pieno ore costa, anche coperto in montagna, con temporali sparsi e piogge localmente anche abbondanti o intense, alternate a fasi, anche durature, di pausa tra una precipitazione e l'altra. Le temperature scenderanno rispetto ai giorni precedenti con massimi non superiori 25 gradi sia in pianura che sulla costa. In serata entrerà Bora e sulla costa e vi saranno piogge più diffuse su pianura e costa, ancora temporalesche, per tutta la notte tra sabato e domenica. Domenica quindi di primo mattino ancora piogge, specialmente su pianura e costa, ma nel pomeriggio si avrà un miglioramento con anche graduali schiarite. La Bora soffierà moderata in pianura, forte sulla costa, qualche raffica sopra i 100 orari nelle prime ore del mattino, poi in attenuazione nel pomeriggio. Farà la sua comparsa brevemente anche la neve, intorno ai 1800-2000 metri di quota, sulla fascia alpina nelle prime ore del mattino. Le temperature scenderanno con massime non superiori a 21-22 gradi su pianura e costa, quindi molto inferiori rispetto a quelle registrate negli ultimi giorni. Il bel tempo si ristabilirà nei primi giorni della prossima settimana con temperature massime in ripresa, di nuovo 28-29 gradi nelle giorni centrali della prossima settimana. Dall'asservatorio metro dell'ARPA Arturo Pucillo vi saluta.